Che piacere, che emozione, buonasera a sta bella prima fila. C'è quella foto? C'è un posto a foto? Che sarà successo? Sapete? Se sta a parcheggiare, avete mai sette. Mi dispiace, vabbè, devo allungare. Perché è romano, quando vedo una foto si allunga in due, ci appoggia le scarpe, la roba, no? Scarpe. Allora, non mi è piaciuto il fatto di... Hai visto la pausa a Roma? Sud. Capito? Se era a nord, diceva, di Roma Nord. Invece Roma Sud, come mi dico? Come fa a stare qua questo da San Giovanni, si è perso, potassi? Perché questi di Roma Nord vengono a Roma Sud per recuperare le macchine rubate che abbiamo noi. Oh, scherzo, io pure sono... Poi la mamma mi diceva, dico, ma vado a Collina Fleming. Mi ha detto, portate un giacchetto, che è lì. Di dove sei tu? Tanto stiamo tremendo. Di Ladispoli. L'unico italiano a Ladispoli, siete? C'è solo italiano a Ladispoli. È vero, sono pochi gli italiani. No, una volta era italiano, mo. È stato un periodo polacco. Perché sui campeggi dell'Aurelia c'erano... Beh, oh, so del zona, so queste cose, no. Non è vero che so del zona, perché normalmente quello di Roma Sud va in vacanza da Torvaglianica, in giù. Quello di Roma Nord, da Freggiane. Cioè, tu hai avuto Roma Nord, ti dici alla Pontina, manca la conosce, che cazzo l'ha presa a fagatello? No, vero? Cioè, uno sembra che ho iniziato con questa cosa, ma è vero. Io dico sempre, sembra una stupidaggine. Cerco di parlare un po' così per levar l'emozione, perché sono tanti anni che faccio questo, ma quando vedi questo, comunque è sempre un'emozione. Capito? Baffa, ha detta. Però già l'ho superata. Qua a sedia volta, ci ha messa la borsa già, ci ha messa la borsa già, ci ha messa la borsa. Ma io che dico, anzi, io dico i cazzati che vengo qui. Io dico sempre degli appunti, per esempio, quelli di Roma Nord hanno la maglietta Ralph Lauren. Vedete, hanno le magliette, Calvin Klein. Pure noi, però i nostri sono false. Sono preso da Toscolana. Hai visto la Toscolana, no? Toscolana è bellissima perché c'è il negozio delle borse e quello abusivo delle borse. Che gli dice, vedi la gente, prima la borsa sapecchiare il negozio delle borse regolari. Arriva la signorina, sistemiamo tutto. Per esempio, i giornali a Roma Nord, Corriere della Sera, Repubblica, da noi. Corriere dello Sport, il resto non frega il cazzo. Noi siamo veramente, Raffaella, buonasera. Siamo un po' stranissimi. Per esempio, io, vabbè, frequento più Roma Sud perché sono da Roma Sud. Se vado lì o perché me l'ho perso. Non ho amicizie proprio, devo dire la verità. Io scherzo, poi è bella pure Roma Nord. Vigniastelluti, ah, ma fatta. Vigniastelluti, più in caffè, in discesa, ho dei bier caffè. No, no, non sto scherzando, veramente. Però scherzo, Roma è bella tutta. Stavamo dicendo, non mi è piaciuta la sigla. Però vabbè, superiamo. Tanto Roma è tutta Roma. Che ne è vero? Che ne è vero? Tu dove sei? Spinaceto. Ho beccato. Su 5.000 uno di Spinaceto di Dispoli. Mi gioca la carta a te. Spinaceto. Stavamo a fila di Spinaceto. C'è il centro commerciale a Spinaceto, vero? C'è il centro commerciale. Appena arrivi devi andare da piangere a Spinaceto. No, è bello, ad esempio, a Spinaceto è comodo perché tutti quelli che abitano dicono, dove abiti? All'Eure. Tu capisci che non è all'Eure. Dico, ma Eure a che altezza? C'è via Beethoven, via Chopin. Via l'Europa. C'è no, proprio Eure. Dopo Spinaceto. Che dopo Spinaceto? Che c'è dopo Spinaceto? Il campo Rom e il centro commerciale. Non voglio attaccare solo te perché pare brutto che attacca solo te.